E abbiamo cambiato autoradio, abbiamo preso la bla input e qui abbiamo il simbolo stereo acceso l'RDS ancora non è comparso l'accesso da poco qui c'è anche meno un po' di torno qui c'è anche meno un po' di torno come sempre vi ricordo che oltre alle playlist sul nostro sito c'è anche il podcast quindi se volete riascoltarci nella sezione podcast troverete tutte le puntate del DTM e potete andare avanti a ballare con la musica Dance per mille mila milioni di anni nel frattempo come suono si non saprei dire questa si sente meglio per via dello stereo fisso filtra molto di più diciamo che come ricezione la bla input è stata promossa rispetto a Philips si sente proprio abbiamo lo stesso connettore anzi qui abbiamo un aggeggio in più non prendere l'RDS troppo disturbata per proviamo anche a tenere premuto il cavo ma dubito fortemente che riesco a prendere una portanta RDS mentre se cambiamo stazione vabbè magari ecco la prende all'istante tra l'altro lo prende anche in automatico il 92.7 anche se cambiamo la portanta RDS abbiamo anche il simbolino qua sotto TP che in teoria abbiamo anche no sui 92.9 no punto it la guida tv diventa social quando abbiamo i TP ah ecco chiss chiss adesso vedete ce l'abbiamo fatta ha decodificato i P code però qui non c'è verso non ce la fa qui abbiamo la lineettina del volume avete visto ma comunque ve l'avevo già presentata questa autoradio e niente si rivela come vedete la migliore nella ricezione di questa radio visto di più a Ferrari ecco in questo al prossimo video